Il gruppo del tribunale di Reggio Calabria condannato con rito abbreviato a quattro anni di reclusione l'ex parroco di Messignali frazione di Oppido Mamertina della diocesi di Oppido Palmi. Si tratta di don Antonello Tropea di 44 anni. Il sacerdote è stato ritenuto colpevole di prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico e addescamento di un minorenne, ma assolto per altri cinque capi di imputazione. I suoi legali, gli avvocati Andrea e Giuseppe Alvaro, hanno affermato di aspettare le motivazioni della sentenza per presentare appello. Il religioso è stato arrestato nel dicembre scorso dalla squadra mobile di Reggio Calabria. Le indagini erano iniziate nel marzo precedente, dopo che una pattuglia aveva sorpreso l'uomo con un minorenne, a bordo della sua auto, in un luogo appartato. Il ragazzo aveva raccontato di aver conosciuto l'uomo attraverso una chat per omosessuali e di aver ricevuto 20 euro per un rapporto sessuale in auto. Il ragazzo disse anche che l'uomo gli aveva detto di essere un ricercatore scientifico. Il vescovo ha aspettato la condanna per sospendere il sacerdote condannato a quattro anni, ma andando a leggere l'ultima volontà di Papa Bergoglio, dovrebbe essere Monsignore a considerare l'ipotesi prima che venga rimosso dall'alto. Papa Francesco ha infatti approvato in queste settimane un documento dal titolo motu proprio come un padre amorevole, ossia l'impegno della Chiesa per la tutela e quindi la protezione dei minori, e dove si pone in evidenza la responsabilità dei vescovi negligenti relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, e dove un vescovo può essere rimosso per mancanza di diligenza grave. Nel documento si legge, fin dal primo dei cinque articoli, che il vescovo diocesano può essere legittimamente rimosso dal suo incarico se abbia per negligenza posto o domesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, e il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale, e può essere rimosso se abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua, e tuttavia in caso di abusi su minore si legge ancora nel documento papale è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave. Con il caso di Don Antonello Tropea e con il suo arresto, l'allora Gip Antonio Scortecci scrisse che il vescovo Francesco Milito, pur essendo a conoscenza della vicenda, non ha adottato provvedimenti cautelativi né di minima verifica delle accuse rivolte all'indagato assumendo atteggiamenti particolarmente prudenti e conservativi dello status quo, dando pieno credito alla versione negatoria dello stesso accusato, e a tale atteggiamento omissivo è immerso anche dalle intercitazioni telefoniche a cui consiglia di non parlare con i carabinieri in generale, con nessun appartenente alle forze dell'ordine, poiché questi si limitano a parlare amichevolmente come stanno facendo loro, ma potrebbero redigere un promemoria che potrebbe far degenerare le cose. Queste erano le intercettazioni fatte dalle forze dell'ordine. Questi i fatti, oltre alla vicenda bizzarra che appena uscita la notizia dell'ex parroco, fu diramato un comunicato stampa da parte della diocesi di Palmi e pubblicato nello stesso sito della diocesi dove invitava i fedeli ad abbracciarsi in preghiera per il parroco presunto addescatore di minori, poi prontamente cancellato, oltre ad un profilo facebook dal titolo vergognoso, io sto con Don Antonello. E infine lo stesso vescovo alcuni giorni fa è stato oggetto di un manifesto anonimo in cui con sprezzante ironia criticava il pastore della diocesi invitandolo ad andare via. Una vicenda molto complessa quella di Don Antonello Tropea. In origine tanto che una volta chiuse le indagini la procura ha richiesto e ottenuto dal GIP l'arresto del sacerdote, ma in carcere l'ex parroco di Messignadi è rimasto poco, giusto il tempo di svolgere l'interrogatorio di garanzia all'esito del quale gli avvocati Alvaro hanno ottenuto gli arresti domiciliari per il loro assistito. Decisivo per l'esito del processo anche il lungo incidente probatorio con cui si sono acquisite le prove della colpevolezza del sacerdote, si è chiuso dunque il primo capitolo di questa storia giudiziaria, in appello poi si scriverà il secondo. Resta aperta però la questione morale dentro la diocesi di Oppido Palmi.